Molti accordi che vanno dall'energia alle microimprese, alla informazione finanziaria. Poi è stato esaminato un lungo elenco di progetti che si possono intraprendere insieme. Dalla conversazione è venuta fuori una serie di opportunità per le società del nostro Paese e una grande apertura da parte del Presidente Algerino a iniziare una collaborazione che sarà molto più estesa di quanto abbiamo mai fatto in passato. Poi nel pomeriggio ho cercato il Presidente Putin e lo scopo di questa telefonata era chiedere se si potesse fare qualcosa per sbloccare il grano che è oggi nei depositi in Ucraina. Perché la crisi alimentare che sta avvicinandosi e in alcuni Paesi purtroppo è già presente, in alcuni Paesi dell'Africa è già presente, avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili. Quindi una prima iniziativa che si potrebbe cominciare ad esplorare è quella di vedere se si può costruire una possibile collaborazione tra Russia e Ucraina sullo sblocco dei porti sul Mar Nero dove sono depositati questi molti milioni di quintali di grano. Il Presidente Putin ha detto ma questo sicuramente non è però sufficiente a risolvere la crisi alimentare perché forse i fabbisogni sono molti di più. Dico sì però almeno quello intanto lo sblocchiamo e altrimenti poi il rischio è che vadano a male, cioè si marcisca tutto questo deposito di grano. Il Presidente Putin mi ha detto che i porti sono bloccati perché sono stati minati dagli ucraini e naturalmente sono stati minati dagli ucraini per impedire alle navi russe di attaccare l'Ucraina. Quindi la collaborazione deve essere da una parte quella di sminare questi porti, dall'altra quella di garantire che non avvengano attacchi durante il periodo di sminamento. Non abbiamo esplorato a lungo la questione delle garanzie, di come garantire, ma chiaramente sarà una questione se le cose vanno avanti, perché può essere benissimo un tentativo che non avrà esito. Comunque c'è stata effettivamente una disponibilità a procedere su questa direzione. Per cui poi ho terminato dicendo che poi dovrò chiamare il Presidente Zelensky e vedere se c'è un'analoga disponibilità a procedere in questa direzione. È un'iniziativa che ho sentito il dovere di prendere per la gravità della crisi umanitaria che può toccare poi i più poveri del mondo. Speriamo. Poi dopo la conversazione si è sviluppata, è stata essenzialmente una conversazione del Presidente Putin su temi di, come dire, di più generali, più di politica generale. Ha detto che la crisi alimentare è colpa delle sanzioni perché la Russia non può esportare il grano e se le sanzioni fossero tolte la Russia potrebbe esportare tutto il grano che vuole e così via. Naturalmente le sanzioni sono lì perché la Russia ha attaccato l'Ucraina. Quindi la cosa poi si è svolta, soprattutto lui ha parlato, anzi credo esclusivamente lui ha parlato, su un piano più generale. Ma a me interessa una questione più definita, più piccola, che è quella di cercare di vedere se si riescono a sbloccare questi enormi quantitativi di grano nei porti del Mar Nero, nei porti dell'Ucraina del Mar Nero. Poi dopo abbiamo fatto una riunione del Consiglio dei Ministri, in cui tutto sommato, di nuovo è stata una riunione positiva, perché abbiamo passato in rassegna gli obiettivi del PNRR che devono essere raggiunti entro fine giugno. Abbiamo fatto una disamina di questi obiettivi e a che punto siamo con il raggiungimento di questi obiettivi. E devo dirvi che sono molto tranquillo a questo punto, che questi obiettivi saranno tutti raggiunti. Altra notizia positiva di oggi è che l'accordo sulla legge della concorrenza, in particolare sui balneari, in sostanza l'accordo è aver accettato il fatto da parte di tutti i partiti, che ringrazio veramente perché è stata una discussione molto lunga e molto difficile, ma alla fine l'accordo è stato accettato sulla base del fatto che la definizione del valore di indennizzo che deve essere riconosciuto al dato da chi subentra a colui o colei che esce, sarà definito dai decreti legislativi predisposti dal Governo. È una strada molto naturale nelle leggi delega, dove normalmente le questioni più tecniche vengono demandate al Governo per la loro analisi, la discussione e la determinazione. Mentre i principi di carattere generale soltanto quelli vengono contenuti nella legge delega e anche di questo chiaramente io sono molto soddisfatto. Inoltre stasera alle sette e mezzo credo ci sarà una riunione presieduta dal sottosegretario Garofoli per definire con i referenti di tutti i partiti gli ultimi passi per la delega fiscale. Anche su questo mi pare che siamo vicini o comunque ci sia un accordo. Qui, insomma, la sensazione è che raggiungiamo gli obiettivi del PNRR e il programma del Governo va avanti e va avanti bene. Grazie. Io prenderò un po' di domande, non tante, perché, insomma, come dico, è stata una giornata talmente intensa oggi che... Grazie. Se mi risparmiate un po' vi ringrazio. C'è una prima domanda dal Tg1, Mario Di Pizzo. Buonasera, Presidente. Buonasera. Putin le ha garantito che continuerà a fornire il gas all'Italia ai prezzi stabiliti e in questa telefonata ha visto degli spiragli per un negoziato più generale di pace? Alla seconda domanda, se ho visto degli spiragli per la pace, la risposta è no. E alla prima domanda ha detto che continuerà a fornire le forniture. Io non ho discusso, non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione, ma questa è la situazione attuale con tutti i Paesi, tranne quelli che sono chiaramente, come dire, attaccati dalla Russia, come la Finlandia e anche la Bulgaria per un giorno è stata sospesa dalla fornitura di gas. Quindi questa è stata la... Una domanda da Lanza, Paolo Alomele. Buonasera, Presidente. Volevo chiederle qualche dettaglio in più rispetto agli obiettivi del PNRR, rispetto alle prossime scadenze. se vede nel percorso parlamentare delle riforme qualche ostacolo o insomma una valutazione generale da parte sua. Grazie. Beh no, oggi posso dire di essere molto più sereno dei giorni scorsi. Vedo che, appunto, avendo raggiunto l'accordo sull'articolo dei balneari per la legge sulla concorrenza, che era un po' l'ultimo aspetto, perché poi il resto era stato tutto già, come dire, approvato, e l'orizzonte si schiarisce sensibilmente. Quindi la legge sulla concorrenza può andare avanti, sarà approvata entro... Parliamo, la legge sulla concorrenza deve essere approvata entro il 30 dicembre, il 31 dicembre, ma occorre approvare ora la legge delega per poi poter scrivere i decreti legislativi tra ora e il 31 dicembre. Quindi per questo il termine che ci siamo posti è l'approvazione ora, in questi giorni, della legge sulla concorrenza. E anche per tutti gli altri obiettivi intermedi, insomma, che noi dobbiamo raggiungere, mi pare siamo ad un ottimo punto. Gran parte di questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti, a proposito, ben prima del 30 giugno. Quindi il 30 giugno in realtà è importante perché si concludono, se non sbaglio, un paio di gare e perché si aspetta ancora il parere della direzione della concorrenza della Commissione su una questione. Ma per gli altri obiettivi si sono raggiunti prima, sicuramente entro il 20 giugno o qualcosa del genere, gran parte di questi. Quindi analoghe osservazioni vanno per la delega fiscale. La delega fiscale, se non sbaglio, la discussione è ricominciata in Commissione o comunque andrà la prossima settimana. Stasera c'è la riunione definitiva. Se non vengono fuori sorprese, perché dovrebbe essere delle sorprese, anche questa è stata approvata. E quindi andiamo avanti. L'impressione è abbastanza, come dire, più tranquilla dei giorni scorsi, più serena, ecco. Presidente, c'è un'ultima domanda da Andrea Bonini. Buonasera, lei ha parlato di una disponibilità di Putin a ragionare sulla possibilità di sminare e togliere l'embargo al grano e al blocco delle navi. Ecco, porterà e discuterà di questa disponibilità lunedì martedì prossimo a Bruxelles e cosa si aspetta e come dal suo punto di vista gli altri paesi europei dovrebbero muoversi su questo fronte e sulla scena di quanto da lei è iniziato quest'oggi? Grazie mille. Sì, certo, ne parlerò al Consiglio straordinario che però non è esattamente su queste questioni ma comunque io credo che una breve informativa la darò. Ma attenzione perché ancora potrebbe finire tutto nel nulla e questo è un tentativo che io mi sento di fare senza alcuna, come dire, alcuna certezza che possa andare a buon termine ma semplicemente perché la gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose, anche cose che forse possono non riuscire. Quindi avrò questa telefonata con Zelensky, vedrò se c'è una corrispondente disponibilità. Io credo che da parte di tutti ci sia la consapevolezza della posta in gioco che è quella della vita di milioni e milioni di persone. Grazie. 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 Scusate la brevità. Grazie. Grazie. Grazie.